si per questi fiori me lo passi un vaso? si va bene questo? questo? dove l'ha preso questo? e abbiamo questo di zia de resa e da quanto ce l'abbiamo? ce l'abbiamo avuto 25 anni fa per il matrimonio noi la conference league ce l'abbiamo da 25 anni a casa l'originale in vetro questo è il vaso non può essere questo murino sono stata baciata da due giorni zagnolo ha detto che è il suo sogno da piccolo ma l'ha visto a casa di zia de resa quindi l'originale ce l'abbiamo noi siamo noi siamo noi